stop reddito di cittadinanza via ai nuovi sussidi pesero commemora la figura di arnaldo forlani montelabate si cerca 19enne scomparso boom discrezioni all'università dell'età libera volley la megabox sbarca pesero con la maglia griffata 2024 buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di rossini news telegiornale di martedì 5 di settembre che apriamo questa sera occupandoci della sospensione del reddito di cittadinanza che da pochi giorni in questo mese di settembre riguarda quasi 1700 famiglie marchigiane ma è già partita l'adesione alle nuove forme di sussidio sono 1681 le famiglie marchigiane che da questo mese di settembre non beneficiano più del reddito di cittadinanza famiglie che nei patronati del territorio si stanno informando per fare domanda verso la nuova procedura denominata supporto alla formazione lavoro con il coordinamento dei centri per l'impiego si tratta di una delle due possibilità sostitutive al reddito di cittadinanza l'altra è quella degli assegni di inclusione per i soggetti più fragili è importante suddividere in due parti questo contributo un conto è sostenere quelle persone quelle famiglie che hanno difficoltà a poter lavorare tipo chi ha un disabile in casa o chi è che ha un genitore anziano da curare e quindi a difficoltà essere inserito nel mondo del lavoro e quando queste persone hanno redditi particolarmente bassi i sei molto bassi hanno diritto ad un sostegno e continueranno queste persone ad avere diritto ad un sostegno anche se non si chiamerà più reddito di cittadinanza di cittadinanza si chiamerà assegno di inclusione e passa attraverso i servizi sociali del comune un conto invece sono le persone che in età da lavoro e stando bene fisicamente quindi potendo lavorare devono se vogliono continuare ad avere un contributo di 350 euro a mese per un anno devono essere inseriti nei percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei nostri centri per l'impiego e anche delle agenzie private per il lavoro solo chi accetterà di essere inserito in queste piattaforme che poi ti spingono a inserirti nel mondo del lavoro potranno continuare ad avere questo contributo dall'inizio del prossimo anno secondo guzzi dunque la nuova formula consentirebbe un abbinamento più efficace fra sussidio e attesa di occupazione chi accetterà questo percorso avrà un iniziale sostegno che ovviamente questo sostegno cesserà appena ci sarà una offerta di lavoro che venga accettata o anche che non venga accettata dalla persona se non viene accettata l'offerta di lavoro si perde anche il contributo. Grande momento di commemorazione politica ieri pomeriggio a Pesaro col consiglio comunale dedicato alla scomparsa di Arnaldo Forlani avvenuta lo scorso mese di luglio tanti gli interventi che potrete vedere in forma integrale su Rossini tv domani mercoledì 6 settembre alle ore 21 e 20 ma che vi anticipiamo in questo servizio. È stato un po' il pensiero unanime quello espresso ieri dal sindaco Ricci e dal senatore Pierferdinando Casini nel ricordare l'ex presidente del consiglio dei ministri il pesarese Arnaldo Forlani descritto da entrambi come il più grande politico che le marche abbia mai avuto. Dopo la sua scomparsa avvenuta il 6 luglio scorso all'età di 97 anni la città di Pesaro ha deciso di recuperare all'assenza mostrata i funerali di stato dell'ex esponente della democrazia cristiana programmando per ieri pomeriggio un consiglio comunale monotematico. Per l'occasione l'incontro politico si è tenuto all'interno della rinnovata sala della Repubblica del Teatro Rossini luogo intimamente centrale della storia di Pesaro che lo stesso Forlani aveva riaperto nel 1980 dopo anni di lavori. Assise che si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare anche la recente dipartita dell'ex vice sindaco Barbanti e del consigliere comunale Biagiotti prima di lasciare spazza ai numerosi interventi delle figure istituzionali presenti nel ricordo dell'impronta lasciata da Arnaldo Forlani nella sfera politica nazionale. Era un politico con la P maiuscola, con il percorso fatto di studio, di impegno, di crescita all'interno di partiti che all'epoca erano vere e proprie strutture in grado di formare e di cogliere il talento dei migliori facendoli crescere. Ed è stato sicuramente per la nostra città il politico più importante mai avuto, senza ombre di dubbio. È stato un uomo potente, molto potente, un uomo che ha guidato la democrazia cristiana, che ha guidato il governo, la democrazia cristiana per ben due volte. Ed è stato però, mentre aveva ovviamente la testa e il corpo impegnati in tanti contesti nazionali, internazionali, contesti nazionali anche di grandi difficoltà, pensiamo a tutto il periodo del terrorismo, delle Brigate Rosse, uno dei momenti nei quali comunque aveva massimi ruoli all'interno del partito e del governo. Mai però ha dimenticato la sua città e magari senza metterlo in evidenza troppo, senza prendersi troppi meriti, c'è il suo zampino in tante questioni che riguardano questa città e questa provincia. Marco prima ricordava il teatro, in questi giorni si riparla molto dell'affano Grosseto. Abbiamo svolto un'edizione del Rossini Opera Festival straordinaria, ma se il Rossini Opera Festival è ciò che è perché nel 1980, nonostante fosse proposto da un'amministrazione comunale comunista, comunisti e socialisti, vedi in Forlani un grande sostenitore nella possibilità, nella capacità poi di avere in Parlamento una legge in grado di finanziarlo. Ed è curioso come si è emerso da questo territorio, da un consiglio comunale nel quale lui è sempre stato minoranza. Una figura e un talento politico di questo tipo. Questa non era un luogo diciamo tipico, un luogo diciamo di maggioranza democristiana. Eppure nonostante questo, come dire, partendo dal consigliere comunale d'opposizione è diventato una delle persone più importanti della politica italiana per almeno 30 anni. Ospite d'eccezione il senatore Casini, da giovane braccio destro dell'ex leader Scudo Crociato Pesarese. È chiaro che il suo ricordo si intreccia in modo indissolubile con quella che è stata la storia di una fase del nostro paese che è culminata nel 48 e che è finita sostanzialmente con la fine politica di Arnaldo Forlani e di una generazione importante dei leader politici. Con la sua compostezza spesso criticata ci ha insegnato il senso relativo del potere e delle cariche. Guardate questo è un punto fondamentale. Che cosa ho imparato io da Forlani? Ho imparato che non siamo padroni del nostro destino, che bisogna imparare anche tra di noi a non prenderci troppo sul serio, di avere quel senso di autoironia. Il più delle volte il frenetismo che caratterizza i politici, a cui lui era del tutto alieno e anzi molto insofferente. Mi ricordo anche quando io all'inizio, che era un po' dinamico diciamo così, lo pressavo e a volte capivo proprio che gli davo fastidio perché lui era abituato a pensare e a pensare e poi a decidere. Tutto il frenetismo che gli mettevamo perché ci doveva dire una cosa importante, perché la cosa era urgente, lo infastidiva, perché aveva proprio questo senso del limite. Ed ora la cronaca, ore di apprensione a Monte Labate dove dalle 6 di mattina di domenica non si hanno più notizie di Angelo, un ragazzo di colore di 19 anni. A dare all'allarme i genitori e i tre fratelli che domenica mattina hanno visto il letto vuoto nella loro abitazione e da domenica sera sono cominciate le indagini dei carabinieri che hanno appurato che il ragazzo è stato avvistato da telecamere di videosorveglianza transitare per Monte Labate e dirigersi verso Morciola. Questi al momento gli unici elementi in mano. Pare che il giovane non abbia portato con sé telefono, documenti e bancomat. Secondo i genitori il ragazzo sta attraversando un periodo complesso e hanno deciso di diffondere foto e appello social rivolto a chiunque avesse notizie. È morta ieri all'età di 62 anni Serenella Albonetti, impreditrice titolare assieme al marito Paolo Nicolini dell'azienda AS Tecnologie di Sicurezza specializzata in sistemi d'allarme. È venuta a mancare in seguito a un periodo di malattia. Un lutto che ha scosso il mondo dell'imprenditoria cittadina essendo stata l'Albonetti membro di giunta di Confcommercio Marche Norte e dirigente di Terziario Donna. La ricorda anche Confesercenti che in una nota sottolinea come porterà a termine un progetto ideato proprio da Serenella. Il funerale si terrà domani alle ore 16 nella chiesa di Santa Veneranda. Fanno discutere alcune nuove procedure di prenotazione al CUP regionale. Ne parliamo in questo servizio. C'è un cambio di procedura al CUP, centro unico di prenotazione sanitaria. È quello stilato da Flavia Carle che dallo scorso maggio è capo dell'Agenzia regionale sanitaria delle Marche. L'edizione odierna del resto del Carlino ha sollevato la particolarità di una circolare dell'ARS che prevede come gli operatori del CUP avranno un atteggiamento d'ora in poi più essenziale finalizzato esclusivamente a fissare appuntamenti per prestazioni medico-sanitarie con scarso margine alla colloquialità e alle valutazioni personali degli operatori. Una scelta precisa che è stata analizzata nel nuovo piano sociosanitario. Nel piano sociosanitario abbiamo analizzato chiaramente il tema del tema annoso delle liste d'attesa delle problematiche legate al CUP e questa è una procedura che ha previsto la nuova direttrice dell'ARS, la dottoressa Carle, ma non vedo il motivo di questa polemica. È solamente una procedura che è finalizzata ad un informare il sistema ed evitare che ci siano degli operatori che dicono una cosa ed altri che dirano una versione completamente diversa. Quindi cercare di essere snelli, veloci, rapidi, ma soprattutto efficienti e cercare i posti nella maniera più veloce e più utile per l'utente. Più di mille iscritti in un giorno e mezzo. Davvero partita di slancio la campagna di adesione ai 120 nuovi corsi dell'Università dell'Età Libera. Sono già più di mille gli iscritti ai 120 corsi proposti dall'Università dell'Età Libera pronta a partire col suo 34esimo anno accademico. Ieri il via alle iscrizioni ha subito registrato riscontri importanti su una formula di cultura e apprendimento che continua a riscuotere grandi consensi. A tutt'oggi, quindi un giorno e qualche ora di iscrizione, abbiamo online 790 iscrizioni e in presenza oltre 250, quindi più di mille persone in un giorno si sono iscritte. Se tieni conto che ogni corso, ogni iscrizione può significare anche due o tre corsi di frequenza, direi che siamo molto soddisfatti. D'altra parte sono i numeri che noi avevamo pre-Covid, perché quello spazio temporale del post-Covid che ci ha compito per almeno tre anni è stato di sicuro ricoperto. Evidentemente c'è anche molta voglia da parte delle persone di ricominciare a occupare in un modo costruttivo il tempo libero che hanno da settembre a maggio, insomma. Perché ci stanno iscrivendo molti anche ai corsi del secondo trimestre, quindi c'è una progettazione, una programmazione del proprio tempo libero e del proprio desiderio di conoscenza in rapporto anche a tutto l'arco temporale dell'anno del nostro anno accademico. Ora sarà inevitabile una saturazione dei corsi più gettonati. Quasi tutti i corsi sono andati a iscriversi, quindi non ci sono quelli più frequentati e quelli meno. Entro la fine della settimana avremo un'idea molto più chiara di come si sono spalmati. È possibile immaginare un futuro sostenibile? Per rispondere a questa domanda, la compagnia Malte presenta il secondo appuntamento drammaturgico a Pesaro, Comp Comune e Amat dal titolo a est del palcoscenico a cura di Sonia Antinori. Il progetto si svolge alla chiesa dell'Annunziata dove è in corso in questi giorni la residenza drammaturgica con Stefan Ciappalicu, rivolta da artisti, studenti e cittadini per riflettere e sensibilizzare il pubblico sull'emergenza ambientale legata al cambiamento climatico. I risultati dei lavori confluiranno in un evento Conversation About the World che si terrà giovedì 7 settembre alle 18.30 sempre alla chiesa dell'Annunziata. E invece nella Sala Laurana di Palazzo Ducale di Pesaro è visitabile fino al 29 settembre la mostra Costruttori di Pace a cura di Giorgio Tabanelli. Una mostra che nasce grazie a un protocollo d'intesa fra i sindaci dei comuni di Pesaro, Urbino e Fano in occasione del bicentenario della nascita di Alessandro Serpieri e dei centenari della nascita di Valerio Volpini, Ernesto Balducci, Don Lorenzo Milani e a vent'anni dalla scomparsa di Carlo Bo. La mostra documenta il tema della pace attraverso le figure storiche che ne hanno vissuto e interpretato le istanze civili e politiche come Gandhi, Lapira e gli stessi Serpieri, Bo, Balducci, Volpini e Don Milani. E ci spostiamo a Piobbico dove è tutto pronto per il tradizionale Festival dei Brutti previsto fra l'8 e il 10 settembre. Un'edizione 2023 che avrà come filo conduttore il tema dell'inclusione e che parte venerdì con tanti appuntamenti. La Notte del Brutto, appunto venerdì, sabato il tradizionale Palio della Damigiana e domenica la Sagra del Polentone alla Carbonara che sarà seguita anche a delle telecamere di Rossini TV e che precederà la consegna del premio No Bell e la nomina della nuova presidenza del Club Mondiale dei Brutti. Da Piobbico a Gradara che invece chiude in bellezza una stagione di grandi numeri di presenze e lo fa con Gradara Luden su un evento ritrovato che si terrà il prossimo 23 e 24 settembre. Chiudiamo in bellezza, questa stagione è molto molto importante, molto calda, è molto carica di presenze, di grandi eventi con un altro grande evento che riguarda anche queste le radici più identitarie di Gradara, che è di Gradara Ludens. È nato negli anni 90 dalla mente vulcanica di Bibo Cecchini, all'epoca il primo assessore al gioco in Italia e l'ex sindaco Sandro Sorbini. Abbiamo deciso di risvegliarlo dal sonno nel quale è andato in letargo per una ventina d'anni e dall'anno scorso è tornato il premio Gradara Ludens che premierà tre personalità ludiche dell'anno. La struttura stessa del premio è particolare perché sono i premiati stessi che dovranno poi giustificare e motivare il motivo per cui hanno preso questo premio. Non solo, ma anche nominare i premiati del prossimo anno. Al festival sarà anzitutto un posto dove giocare, un posto dove tutti e tutte possano giocare. Ci saranno più luoghi, partendo dall'alto, nella Rocca, ci sarà l'Idea G, che è l'incontro nazionale degli inventori e creatori di giochi, che sarà dedicato anche a tutte le tematiche del gioco per utenze speciali. Ci saranno seminari dal tonismo, altro, come fare e come progettare giochi per queste utenze speciali. Nel paese ci sarà un posto accanto al museo, dove si terrà anche la mostra dell'arte del gioco. Ci sarà un grande piazzale dove tutte le associazioni del territorio proporranno giochi diversi, dal subuteo al gioco di ruolo, agli wargame, al gioco per bambini. E nelle strade ci saranno tante altre occasioni di gioco, fra cui in particolare, per esempio, ci sarà un tappeto per inventare poesie realizzato per noi, per l'occasione, da Antonio Catalano, della compagnia Universi Sensibili, che aiuterà tutti a fare quello che di solito si fa col fitness, un percorso in cui migliorare e migliorarsi, non però nelle flessioni, ma con quelle flessioni speciali che riguardano la poesia. E tutti questi posti saranno il Gradara Ludens, con l'idea di un posto che dalla mattina alla sera possa offrire sempre dei giochi e qualcosa da provare, di nuovo, di inedito, di appena uscito, di classico. Torniamo a parlare di gioco, che come dicevamo è un elemento identitario di Gradara, che è a tre pilastri, quindi la città storica, quindi il Medioevo, la città romantica e anche capitale del gioco. Grazie a queste storiche attività e iniziative legate al gioco, sono statificate proprio a gradarne il personale, nelle persone che lavorano con noi. E per noi delle competenze importantissime legate alla didattica ludica, che per noi è un settore strategico, perché lavoriamo tantissimo con le scuole, quindi il nostro obiettivo è quello di offrire dei servizi della massima qualità per studenti, ma non solo, ma anche per adulti, per giocare con la storia, giocare con se stessi e ritornare un po' bambini, perché il gioco è fondamentale, è prontantissimo per riscoprire il bambino e il ragazzo, insomma, che c'è dentro di ogni adulto. E torniamo su Pesaro, dove è tutto pronto per la maxi tavolata di 2024 pizze Rossini già sold out da diversi giorni. Una cena da record per salutare l'estate in vista dell'anno di capitale della cultura. L'appuntamento per domani, 6 settembre, con ritrovo alle 20 in Viale della Repubblica. Gli spazi sono numerati dall'1 al 2024 e coloro che hanno ritirato il coupon non dovranno fare altro che cercare il loro posto corrispondente al numero indicato nel tagliando. Le 2024 pizze saranno trasportate dai ragazzi di Urbico e distribuite dai volontari della Proloco di Candelara. Per le ore 22 sono invitati anche tutti gli altri pesaresi senza coupon per partecipare alla foto di gruppo e per un brindisi con 500 bottiglie di prosecco offerte da Spazio Conad Pesaro. E guarda al 2024 anno di capitale della cultura anche la società pallavolistica Megabox Vallefoglia che quest'anno giocherà il suo pre-campionato proprio con una maglia dedicata all'anno di capitale della cultura preparandosi ad una stagione che dopo essere stata vissuta con partite agonistiche a Urbino quest'anno si trasferirà invece al Paladì di Campanare di Pesaro. Con grande piacere diamo il benvenuto alla Megabox che giocherà a Pesaro che ha scelto anche di brandizzare le proprie maglie con il logo di Pesaro 2024. Il prossimo anno per noi sarà un anno importante appunto con una grande visibilità non solo in Italia ma anche a livello mondiale perché saremo capitale italiano della cultura 2024. Pesaro ha una grande tradizione pallavolistica e quindi siamo orgogliosi che la Megabox abbia scelto di dare ancora più valore rispetto a quella che è la cultura sportiva della nostra città. Abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa maglia a questo evento molto importante che accadrà nel 2024 qui a Pesaro quindi la maglia di pre-campionato quest'anno ricalcherà questa bella iniziativa che verrà qui a Pesaro. Sì, la maglia che rappresenta questa città Pesaro che per me è molto importante perché comunque abito anche qua vicino sono contenta che la rappresenteremo al meglio. Diciamo che questa maglia è nata per volontà della società Megavolley che ha voluto con questa maglia a questo segno dedicare e ringraziare Pesaro per questa nuova avventura che ci prestiamo a fare quest'anno nella città di Pesaro. L'ispirazione ovviamente è venuta dal logo i suoi colori, la sua palette e semplicemente abbiamo preso dei simboli di Pesaro dalla palla, il mare, le sue architetture Rossini, il teatro il fiume Foglia che è questo legame, questo filo che lega Valle Foglia con Pesaro una piccola citazione anche con la foglia di Ginko Biloba che è stato il simbolo che il giorno della vittoria della candidatura il sindaco Matteo Ricci ha voluto come simbolo da dedicare per questa vittoria. E si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che ha le 21.20 dedicata allo speciale realizzato in occasione della mezzanotte bianca dei bambini che si è tenuta sabato e domenica nel centro storico di Pesaro una tredicesima edizione di grande partecipazione che potrete rivedere appunto questa sera sul nostro canale 80. e poi come sempre domattina l'appuntamento è quello con la rassegna stampa Buongiorno Rossini come sempre in diretta dal lunedì al sabato alle ore 7.20 anche con possibilità di diretta su Facebook. Si chiude invece qui Rossini News e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.